Con il pieno sostegno del prefetto dottor Valerio Valenti, con il quale ho avuto modo di confrontarmi sui fatti e in totale condivisione con il sindaco Roberto Di Piazza, desidero, a nome dell'aula che rappresento, esprimere con forza la ferma condanna per quanto avvenuto e la piena vicinanza alla vittima, nonché esprimere la più totale disapprovazione per il contenuto, per i toni e per i modi che il consigliere comunale Fabio Tuiac ha utilizzato per commentare la vila aggressione subita da un nostro concittadino. Non è il nostro compito giudicare la vicenda dal punto di vista della responsabilità personale del consigliere in ordine alle dichiarazioni rese, ma è il mio compito ed è il nostro compito prendere con forza e determinazione le distanze da un comportamento che considero disonorevole e riaffermare così quel valore di civiltà, tradizione e di rispetto della dignità umana proprio di questa città.